arriviamo dunque alla morte di carlo magno carlo magno more il suo impero viene diviso tra i figli da qui inizia subito il conflitto in realtà ma questo adesso è secondario per quello che interessa a noi passiamo al nipote di carlo magno il terzo sacro romano imperatore carlo il calvo nell'ottocento settantasette promulga il capitolare di chierzi è un diciamo legge che sancisce l'eredità dei titoli per i vari vassalli imperiali cosa significa l'impero per essere gestito viene diviso in varie così porzioni queste porzioni sono date a dei vassalli alla morte del vassallo questa porzione ritorna sempre all'imperatore con questo capitolare io vassallo lascio a mio figlio in automatico in diretta diventa suo diritto e l'imperatore dice sì sì va bene il suo diritto non c'è problema tanto l'importante che obbedisce all'imperatore però che cosa accade che questo diritto inizia a frantumare il potere politico questa cosa va avanti per molto tempo e a un certo momento è l'impero sacro romano impero di fatto non ha quasi più ma non nulla è tutto quanto frantumato perché ognuno per decenni e per secoli fa questa cosa e si perde la centralità del potere cosicché quando poi con la casa di sassonia insomma siamo circa 150 anni dopo ottone primo vuole tentare di ricostituire l'unità del sacro romano impero ha un'idea che è quella di dare in gestione questi feudi questi mettere all'interno del sistema del vassallaggio i vescovi perché perché i vescovi non fanno figli però se io do in gestione a un vescovo che non è amico mio poi è un problema perché il vescovo che non è amico mio obbedirà più al papa che a me questa cosa non si può fare allora faccio una cosa prendo un tizio qualunque che è amico mio lo faccio vescovo io imperatore nomino lui vescovo e a quel punto gli lascio il terreno alla sua morte ritorna tutto quanto a me questa è la investitura dei vescovi cioè che io prendo il vescovo prendo la persona lo faccio vescovo lo gli do anche questo questo potere appunto potere podere nel senso questo che può essere una città un feo di un regno quello che un regno non è piuttosto grande insomma una porzione di terreno di territorio importante del mio impero e poi questa cosa mi ritorna inoltre promulga nel 962 il privilegium ottonis in che consiste nella possibilità che il pontefice prima di diventare tale debba essere confermato dall'imperatore quindi ci sono i vescovi decidono i cardinali scusa decidono il nuovo il nuovo papa perfetto ma se io imperatore non sono d'accordo no questo non può diventare pontefice bene ora tutto questo ha proprio a che fare con il rapporto fra autoritas e potestas cioè l'imperatore ha autorità per investire dei vescovi ha autorità da poter mettere bocca sulla elezione di un nuovo pontefice e in nome di quale autorità fa questo o è soltanto una questione di potere cioè siccome ha il potere militare più forte lui decide lui e questa cosa fa partire appunto la lotta per le investiture cioè il fatto che il vescovo di roma vuole affermare il primato sull'investitura vescovile cioè io papa decido io chi è vescovo no tu imperatore non puoi fare questa cosa qua all'interno di questo conflitto che porterà a una centralizzazione istituzionale del della chiesa si inserirà anche nel 1054 lo scisma d'oriente ovviamente a un certo punto il vescovo d'oriente vabbè senti noi in questa storia non ci vogliamo neanche entrare fate quello che volete noi tanto abbiamo tutto altro da acquistare appresso dal ton del loro anno l'imperatore come dicevamo d'accordo allora il primo a sancire questo conflitto è papa nicolò secondo nel 1059 con il concilio di lateranense il quale condanna l'investitura laica dei vescovi i vescovi non possono essere investiti tali da un laico lo può fare soltanto un altro vescovo cioè una fattispecie lo posso fare io evidentemente inoltre esclude l'imperatore dal conclave seguiranno due secoli di conflitti conflitti di vario tipo in cui la chiesa non combatterà mai in prima persona perché la chiesa non è mai stata dotata nella sua storia di un esercito significativo sercito della chiesa sono sempre stati quattro gatti che fanno gestiscono quei pochi territori di controllo diretto dal dello stato della chiesa ma è una cosa irrisoria la chiesa come ha come ha portato avanti questo conflitto appoggiandosi con su altri sovrani o su imperatore contro altri sovrani a seconda cioè giocando sul meccanismo di vari interessi che esistono all'interno del dell'europa e dando il proprio favore a uno piuttosto che all'altro per metterli in conflitto poi abbiamo papa grigorio settimo che nel 1075 rivieta di nuovo a tutti i laici di investire qualunque ecclesiastico e questo effettivamente già c'era con il concilio terrenense e in più nel 1078 con il dictatus pape da al pontefice il potere di deporre il sovrano laico cioè non solo tu imperatore non puoi decidere chi sono i vescovi ma ti dirò di più sono io papa che ti levo l'autorità di essere a te imperatore o a quello di essere re perché poi accanto al sagro umano imperatore ci stanno altri re ovviamente per esempio il re di francia no bene quindi il papa il permesso di deporre gli imperatori il papa non può essere giudicato da nessuno quindi non esiste alcuna autorità sopra quella del pontefice non solo l'autorità del pontefice è tale che chiunque faccia appello al giudizio della santa sede cioè del pontefice non può più essere giudicato da nessuno quindi tu hai commesso qualche cosa dall'altra parte del mondo bene fai richiesta di giudizio presso la santa sede è fatta sei lì nessuno ti può dire più niente arriverai fino alla santa sede capite che che pretesa di autorità che c'è un po d'altronde come era quella dell'impero romano se il cittadino romano chiedeva di essere giudicato all'imperatore nessuno potrebbe più mettere bocca venire portato fino a lì che il pontefice possa sciogliere dalla fedeltà i sudditi dei principi iniqui e questo è molto interessante cioè il suddito è chiamato alla fedeltà fa un giuramento di fedeltà nei confronti del sovrano che sia un re o che sia l'imperatore e questo giuramento in quanto giuramento interpella la fede della persona e io non lo posso sciogliere nel mio giuramento quasi come un voto ma se il papa mi viene a dire guarda questo re è iniquo si comporta in maniera giusta sei sciolto dal giuramento io suddito posso non obbedire più al re o all'imperatore posso anche andargli conto posso addirittura ucciderlo infatti verrà elaborata all'interno della dottrina cattolica quella che viene chiamata la monarchomachia c'è il diritto di uccidere il sovrano se proprio non puoi fare più niente perché ti sta costringendo a qualcosa di assolutamente inaccettabile cosa fa il dictatus pape? tenta di unire sotto l'unica guida papale l'intera cristianità ed è effettivamente quello che farà infatti la riforma gregoriana rispondendo al difetto di auctoritas presente nell'occidente cioè a questa non chiarezza come invece era evidente in oriente elabora istituzionalmente il primato della sede apostolica la chiesa cattolica apostolica romana diventa questa istituzione centrale a partire dal dictatus pape prima di quel momento non era esattamente così poi poi la cosa va avanti c'è addirittura uno sviluppo teocratico teocratico cosa vuol dire? teo, dio, cratico, potere, il potere a dio cioè il potere nel senso materiale del termine va alla gerarchia ecclesiastica va ai sacerdoti chi è che fa questa interpretazione? è Bernardo di Caravalle sa Bernardo di Caravalle tra l'altro che scrive una lettera a Papa Eugenio III invitandolo a usare l'altra spada rispetto a che cosa? c'era il tema della Terra Santa la questione della Terra Santa la questione delle crociate e Bernardo scrive caro pontifici, caro Papa fai una cosa prendi l'altra spada poi tu non puoi prenderla in prima persona perché tu sei il Papa e quindi il Papa non prende in mano il potere ma tu hai il diritto di richiedere che questa spada sia usata tramite chi? tramite i re o ancora di più tramite l'imperatore cioè il papato è disarmato ma la spada armata della Chiesa è l'impero così come volle il Papa all'inizio quando mise la corona in testa a Carlo Magno avrà bisogno di una spada armata contro i Longobardi bene abbiamo di nuovo bisogno di questa spada armata contro gli infedeli contro i Mori contro i Saraceni contro i Maomettiani bene allora chiami l'imperatore e gli dici agisci e lui è chiamato all'obbedienza è chiamato ad agire ecco la svolta quasi teocratica cento anni dopo Bernardo di Chiaravalle nel 1200 Enrico da Susa 1200 avanti Enrico da Susa che è un arcivesco un canonista autorevole una persona importantissima dice proprio questa cosa qua che il gladio temporale cioè la spada per usare sempre l'immagine di Papa Gelasio di quella famosa lettera che vi dicevo che ebbe una grande fortuna appunto tutto il Medioevo quella spada quella spada di fatto è stata data alla Chiesa Sacerdotium e Imperium sono entrambe sotto la Chiesa poi la Chiesa si occupa del Sacerdotium evidentemente ma l'Imperium nasce da quello e usa un'immagine usa un'immagine anche questa che harà una grande fortuna dei due grandi luminari il sole e la luna così come il sole fa brillare la luna e per la Terra è importantissimo che ci sia tanto il sole quanto la luna intendiamoci ci servono tutte e due ma il sole che fa brillare la luna nella stessa maniera l'ufficio ecclesiastico illumina il mondo per mezzo del titolo imperiale cioè l'Impero vale quel che vale soltanto perché rifulge di una luce riflessa che è quella che nasce dalla luce sacrale che viene appunto dalla Chiesa le due giurisdizioni Sacerdotium e Imperium Octoretas e Potestas sono divise evidentemente d'accordo ma sono gearchicamente ordinate prima a capo hai la Chiesa di Roma da essa discende l'Imperium infatti il Papa può confermare l'Imperatore può incoronare l'Imperatore può anche censurare l'Imperatore e volendo può anche deporlo così come il Papa ha messo in testa la corona all'Imperatore nella stessa maniera gliela può levare e la mette in testa a qualcun altro perché? perché è un qualche cosa che è nelle proprie disponibilità questo non vuol dire che il Papa sia chiamato a intervenire negli affari temporali intendiamoci non è questo che dice Enrico da Susa la Chiesa si occupi delle cose spirituali ci mancherebbe non deve entrare però 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 nei casi speciali in situazioni specifiche è importante può farlo per quanto riguarda la maestà c'è un solo capo che è il Papa così come esiste un solo Dio e Dio ha dato a Pietro entrambe le spade il Signore dei Signori gli dette due chiavi una per le cose spirituali e l'altra per quelle temporali poi adesso strategicamente ok va bene la Chiesa ha messo in piedi l'Impero perché era opportuno ma volendo se lo riprende lo dà a qualcun altro ogni potestas origina da Dio la potestas origina da Dio come l'Auctoritas Dio la dà a Pietro Pietro trattiene e incarna l'Auctoritas il Sacerdotium e lascia questa potestas a uso dell'Imperatore che non ha nessuna autorità ha solo il potere che però se la Chiesa ha bisogno di riprendere lo riprende è la Chiesa aver affidato a re e a imperatori e tra l'altro è interessante re e imperatori quindi inizia a mettere l'imperatore più o meno sullo stesso livello del re quindi di fatto facendo cosa depotenziando enormemente ogni sua autorità ogni autorità imperiale ora non tutti all'interno della Chiesa hanno questa visione quasi teocratica come Enrico da Susa e Bernardo di Caravalle e altri non hanno questa visione qua per esempio Tommaso d'Aquino siamo nel 1200 sapete dice che Chiesa e Impero sono distinti autonomi e collaborativi il potere sacramentale ha a che fare con la consagrazione il potere giurisdizionale parallelamente accanto ad esso ha a che fare con la volontà dell'uomo potere politico e autorità ecclesiastica sono paralleli complementari e entrambi necessari al bene comune sono uno accanto all'altro distinti separati ma seppur l'origine non sia la stessa uno da un lato e uno dall'altro comunque sono finalizzati entrambi al bene non c'è quindi una gerarchia tra l'una e l'altra però sia chiaro auctoritas da una parte e potestas dall'altra l'auctoritas è del papa la potestas è dell'imperatore su questo non ci sono dubbi il governante come d'altronde già diceva gelasio deve sottostare al pontefice per quanto riguarda le cose spirituali i sacerdoti il sacerdozium è sottoposto all'imperium per quanto riguarda invece le cose politiche perché perché tanto nel sacerdozium quanto nell'imperium abbiamo razionalità e rivelazione l'uno e l'altro hanno sempre una componente come dire di virtù e una componente di fede hanno una componente temporale una componente spirituale e entrambi godono di una certa autonomia e di una certa armonia però comunque regno e sacerdozio sono distinti più o meno negli stessi termini è il ragionamento di Dante è il ragionamento di Dante anche se i due soli di Dante dobbiamo interpretarli in maniera un po' diciamo differente Dante parla dei due soli possiamo usare un'immagine che che ci viene in realtà dalla fisica voi sapete la duplice natura della luce da una parte sono onde da un'altra parte è corpuscolare la luce illumina e riscalda ok quindi noi abbiamo da Dio il sole promana tutto evidentemente luce e calore ok bene questi sono i due soli e in tanti promanano da Dio inevitabilmente tutto è ordinato da Dio e tutto è finalizzato a Dio però sono così l'uno accanto all'altro sono distinti a queste due beatitudini come a due fine diverse occorre aggiungere con mezzi diversi dice Dante ok c'è un paradiso terrestre e un paradiso spirituale mettiamola così alla prima infatti perveniamo per mezzo degli insegnamenti filosofici purché li mettiamo in pratica operando secondo le virtù no morali e intellettuali alla seconda invece perveniamo per mezzo degli insegnamenti divini che trascendono la ragione umana purché ovviamente li seguiamo operando secondo le virtù in questo caso teologiche della fede speranza e carità quindi abbiamo il sommo pontefice da una parte e l'imperatore dall'altra uno ti chiama alla santità sommo pontefice l'altro ti chiama alla felicità l'imperatore felicità e santità camminano insieme perché perché l'uomo possa rivolgersi alla beatitudine alla beatitudine questa è la visione di Dante insomma un po' semplificata ma ma va bene così e poi e poi si arriva a Innocenzo III e a Bonifacio VIII che cosa succede? succede che a un certo momento la chiesa all'interno di queste varie possibilità dove la chiesa dovremmo essere più precisi dobbiamo dire il papato all'interno di queste varie letture possibili decide di scegliere una fa propria una sua linea e qual è? scrive Innocenzo III ad Alessio imperatore di Costantinopoli siamo nel 1200 il Dio ha creato due grandi luci anche lui usa questa immagine nel firmamento del cielo ed egualmente ha istituito nel firmamento della chiesa universale due grandi dignità l'autorità pontificia scusate l'autorità pontificia e il potere reggio quella che presiede ai giorni ovvero alle anime è quella maggiore quella che presiede alle notti ovvero ai corpi alle notti è minore sicché vi è da segnalare tra i pontifici e gli imperatori tanta differenza di splendore quanta fra il sole e la luna quindi la chiesa a un certo punto fa proprio una linea chiara noi abbiamo ogni autorità dall'altra parte è solo potestas è solo potere è solo potere materiale non c'è niente più che questo non c'è una grande autorità non c'è una grande dignità e ancora di più lo farà Bonifacio VIII quando nel 1302 a questo punto siamo alla fine con la la promulgazione della bolla Unan Sanctam dichiara la superiorità della chiesa sulla monarchia di Francia in quel caso c'era il conflitto con Filippo il Bello ok quindi abbiamo da una parte il tema imperiale ma dall'altra parte anche anche il tema regale la bolla Unan Sanctam fa propria ufficialmente quella che era la visione di Bernardo di Chiaravalle perché Bernardo di Chiaravalle è un personaggio di grande fama di grande santità di grande autorità riconosciuto nell'epoca indiscutibilmente ma non è il pontefice invece la bolla Unan Sanctam è una bolla pontificare e con questa Bonifacio VIII dichiara la stessa identica tesi cioè che la chiesa ha i due gladi ce le ha la chiesa le due spade dopodiché dà una di queste spade ai sovrani ai re all'imperatore per l'uso che la chiesa indica e se il sovrano il re l'imperatore non obbedisce alla chiesa la chiesa se la riprende il pontefice la riprende dice mi dispiace non si fa così non te l'ho data per questo motivo me la riprendo e la darò a qualcun altro sciolgo ti scomunico in questa maniera tu sei fuori dalla comunione della chiesa quindi sei anche condannato alla dannazione eterna sciolgo dall'obbedienza ai tuoi sudditi quindi attenzione rischi anche la vita legittimamente potrai essere ucciso legittimamente attenzione e la darò a qualcun altro che obbedisce a me qual è il punto di tutto ciò il punto di tutto ciò è questo che l'autorità imperiale a questo punto verrà totalmente meno cioè l'imperatore d'occidente il sacro romano imperatore del sacro romano impero germanico ormai già da molto tempo già da ottone il sacro romano impero germanico non ha nessuna autorità ha solo potere ha un potere che gli viene dalla chiesa non diversamente dal potere che gli viene da tutti quanti gli altri re di fatto sì si chiama imperatore ma non è più quell'imperator quel pater patrum così come era per l'omagno se vogliamo così come erano gli imperatori romani è semplicemente il nome che diamo a questo tipo di sovrano non troppo diverso di fatto da tutti quanti gli altri ecco la storia medievale da questo punto di vista è proprio questa storia qua è la storia del conflitto fra l'autoritas ecclesiastica e l'autoritas imperiale a totale sconfitta dell'autoritas imperiale la quale tratterà soltanto potestas soltanto potere non diversamente da quello che hanno tutti quanti gli altri sovrani e in questa maniera la chiesa che nell'ottocento aveva istituito di nuovo un impero finalizzato a riportare a unità nel corpo politico i cristiani che erano uniti soltanto nello spirito della fede di fatto dirà che questa unità politica non è più così importante non è così più centrale l'unica unità che serve per la cristianità è l'unità spirituale saldamente nelle mani del pontefice e della chiesa la chiesa la chiesa la chiesa la chiesa la chiesa